L'assassinio del rapper antifascista ad Atene solleva indignazione in Europa e manifestazioni si sono svolte in diverse capitali. Decine di persone si sono radunate a Bruxelles per protesta. La situazione in Grecia è molto preoccupante a causa della crescita dell'estrema destra e dei fascisti di Alba Dorato. Noi abbiamo molta paura e siamo preoccupati per la situazione in Europa. La crisi spinge molti verso la destra. Con l'ascesa di Alba Dorato e la situazione in Grecia ci aspettavamo che qualcosa del genere sarebbe successo. Spero che sia l'ultimo omicidio. La situazione politica ed economica è un incubo e mi auguro che si risolva. Oltre a Bruxelles gruppi di manifestanti si sono mobilitati anche in altre città come Parigi, Londra, Amsterdam.